I nuovi media nel mondo dell'informazione potrebbero ridare l'infa vitale ai giornali locali. È uno dei temi sviluppato al convegno dell'Osservatorio Giovani Editori, Crescere tra le righe, da Ario Gervasutti, direttore del giornale di Vicenza. La multimedialità non è una sfida, è un obbligo. I giornali di carta resisteranno, e resisteranno a lungo, non è vero che scompariranno, ma sicuramente dovranno essere affiancati dai nuovi media, dei nuovi mezzi di trasferimento e consegna della notizia ai clienti che sono i lettori. I giornali locali in particolare saranno, secondo me, avvantaggiati nell'affrontare lo sviluppo dei nuovi media perché mentre la carta stampata richiede mezzi e forze che i giornali locali non hanno per poter coprire anche l'informazione internazionale e nazionale, i nuovi media hanno la possibilità di consegnare ai giornali locali e mettere a disposizione dei giornali locali anche risorse che arrivano da tutto il mondo e che possono essere utilizzate, trasferite, elaborate dai giornalisti anche nelle sedi più distaccate e lontane della capitale.